Sei mesi ciascuno. La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza del dicembre del 2020 che assolveva i tre imputati dell'incidente ferroviario colposo avvenuto a Crevola d'Ossola il 24 maggio del 2018. In quei mesi la linea ferroviaria del Sempione era oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. RFI aveva commissionato a un'impresa laziale la demolizione parziale della parete del tunnel e la creazione di un marciapiede... Cercalo in programmi!